Cominciamo, parliamo di argomenti decisamente più seri. Andiamo a Messina, dove si è tenuta una due giorni di congressi dedicati alla neonatologia. Titolo eloquente, lo stretto necessario. Ovviamente è chiaro il richiamo alla città dello stretto. L'iniziativa lo stretto necessario, il primo congresso dedicato alla neonatologia e alla terapia intensiva neonatale. Il primo dei due servizi dedicati a questa iniziativa di Francesco Triolo. Lo hanno voluto chiamare lo stretto necessario per il neonato critico. È stato il primo congresso finalizzato alla discussione all'aggiornamento sulle tematiche di neonatologia e terapia intensiva neonatale che si è tenuta a Messina e che ha portato in Sicilia i maggiori esperti a livello nazionale ed internazionale. Una a due giorni, con molteplici sessioni scientifiche e ampio spazio alla ventilazione neonatale per affrontare le novità scientifiche sul trattamento delle patologie respiratorie del neonato. Quindi il focus sulla gestione pre, peri e post natale dell'ernia diaframmatica con protagonista il sinergismo tra varie figure professionali quali il ginecologo, il neonatologo e il chirurgo pediatra. Un momento di approfondimento scientifico e un momento di crescita culturale proprio per poter ottimizzare in maniera anche pratica quella che è la gestione dei nostri neonati a rischio. Quindi sì, certamente comprendere fino a quanto possiamo spingerci e certamente comprendere come possiamo approcciarci a questi neonati cercando di fare ciò che è giusto senza fare troppo poco o senza fare troppo, cioè senza appunto strafare e quindi farli sopravvivere al prezzo poi di una morbidità troppo elevata. Ospitata anche una sessione sull'umanizzazione delle cure nelle UTIN e le novità in tema di alimentazione con particolare attenzione alle ripercussioni a breve e lungo termine nelle scelte nutrizionali nel periodo pre e post natale. Temi di particolare interesse per la platea che hanno confermato come Messina voglia proiettarsi sempre più verso una posizione di eccellenza per la neonatologia. Messina certamente nella nostra università, nella nostra azienda ospedaliera universitaria c'è la possibilità di avere l'eccellenza, c'è la possibilità di formare, di formare i giovani, di formare specializzanti quindi dal punto di vista universitario e anche dal punto di vista dell'assistenza, quindi della gestione di questi bambini rappresentiamo un centro di eccellenza soprattutto certamente per la provincia. Facciamo il trattamento dei bambini con ipotermia, quindi insomma i bambini astittici che sono elegibili per il trattamento ipotermico. Abbiamo chiaramente delle potenzialità all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria quali la neurochirurgia, quali la chirurgia pediatrica che chiaramente danno anche una condizione di multidisciplinarietà che ci consente di trattare i bambini più gravi.